Punto 5. La casa del Fuzzall. Il martedì alle 23 su PUM. Punto 5. La casa del Fuzzall. Il protagonista del San Giuseppe nel primo tempo. Qui sfortunata davvero l'uscita del portiere con l'autogol clamoroso per lo Junior Domizia. Arriva ancora la rete di Brillante e poi su quest'altra occasione sempre l'asside numero 10 il tocco vincente di Severini. Il tiro libero di Esposito a regalare una parziale gioia allo Junior Domizia nel primo tempo con le immagini. Andiamo alla ripresa. Non cambia ovviamente quello che accade in campo. Poi il gol di Carbone di testa. Poi ancora questa iniziativa con la grande conclusione al volo di Gallese. Arriva ancora la rete di Esposito per lo Junior Domizia. Nella finale ad arrotondare il punteggio dopo questa splendida doppia parata all'estremo difensore. Ospite ci pensa prima ancora la rete di Davalos. Poi qui incredibile l'indecisione con la battuta del gol per lo Junior Domizia. Altro gol a completare il quadro. Ancora la realizzazione di Severini per una vittoria netta del San Giuseppe.